Partiamo sabato 12 dicembre dalle ore 15.30 con l'arrivo di Babbo Natale e con le letture dei volontari nati per leggere presso la palestra della Scuola Media di Lucrezia. Alle 17.30 sempre nella palestra della Scuola Media di Lucrezia e di fronte al megaschermo ci sarà la visione del film Un figlio di Babbo Natale. Dopodiché sabato invece 19 dicembre alle ore 21 presso la chiesa della Pieve, la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, si terrà come l'anno scorso e visto il grande successo ottenuto l'anno scorso il concerto sulle musiche natalizie del corpo bandistico musicale di Cartoceto. Un concerto da vedere sia per la qualità sia per l'atmosfera magica e suggestiva che rappresenta la chiesa della Pieve. Dopodiché chiudiamo il 20 dicembre dalle 10 della mattina fino alle 20 della sera ci saranno sempre a Lucrezia in piazza Giovanni Paolo II sotto il coordinamento dell'associazione culturale Via della Seta i tradizionali mercatini di Natale con la collaborazione di tutte le associazioni del territorio e con la presenza degli obbisti con i loro prodotti anche lì, diversi eventi, Babbo Natale, via una passeggiata a spasso per Lucrezia insomma per stare insieme appunto per recuperare quello che è il vecchio spirito natalizio. Grazie a tutti.